Pene che oscilono tra un anno e mezzo e gli otto mesi di reclusione sono state inflitte dal giudice monocratico Andreina Mazzariello a 26 dei 32 indagati nell'ambito del processo scaturito dall'operazione Torno Subito e che ha visto alla sbarra altrettanti dipendenti del comune di Reggio Calabria accusati di assenteismo. Accolte quindi dal giudice in gran parte le richieste avanzate al procuratore Giovanni Bombardieri e dall'aggiunto Gerardo Dominiani della Procura della Repubblica di Reggio. Assolti due poi perché il fatto non sussiste e si tratta di Pasquale Bonocore e Antonino Branca. Assolti altre quattro per la particolare tenuta del fatto e riferite ad Antonino Pino, Maurizio Delfino, Sebastiano Gullì e Pasqualina Scuncia. L'inchiesta, lo ricordiamo, era scattata nel 2013 quando la Guardia di Finanza aveva arrestato 17 dipendenti dell'ente per truffa mentre altri 78 erano stati denunciati per lo stesso reato e per un presunto danno erariale stimato in quasi mezzo milione di euro. Due anni dopo, il maggio del 2015, vennero poi chiuse le indagini che coinvolsero 32 degli impiegati pubblici che, secondo gli inquirenti, avrebbero fatto timbrare il proprio cartellino ad altri colleghi o che dopo aver strisciato la loro presenza al lavoro si sarebbero poi allontanati senza alcuna giustificazione.